Uno, due, tre, e quattro ancora. Cinque, sei, ora posso dire tre? Uno, due, tre, e quattro. Dobbiamo lavorare sulla consapevolezza che siamo fighe, che siamo donne. Io sono Veroni Carseni, vengo dalla Romania, ho 52 anni, sono alta 1,62 e peso quasi 66 kg. Quanto ti hanno detto che non sei all'altezza? Vabbè, parecchie, però cerco di non ricordarmeli, però se fai così mi riporto una cosa. E faccio la marcia, marcia, giro io, rimane. Four, three, two, ancora, it's eight. Volei guardare allo specchio, Veronica, che io mi ricordo che ero qualche anno fa, e vorrei dire, vabbè, guardami in faccia, io ce l'ho fatta, una cosa del genere. Four, three, two, and chiudo, potete anche sorridere. Four, three, two, and chiudo, ci stiamo vivendo la nostra bellezza, ci stiamo sprigionando nella nostra energia pazzesca, sì o no? Veronica, io ti ho scelto per questo programma perché mi hai colpito subito con la tua sincerità, con il fatto che sei una donna di poche parole, ma di tanta sostanza, ed il fatto che ti vuoi mettere in gioco. La cosa bella è che tu hai detto, voglio cambiare stile di vita e allora sei al posto giusto perché siamo qui per questo, per aiutare le donne a ritrovarsi attraverso il movimento, attraverso la nutrizione, attraverso l'integrazione, attraverso anche delle soluzioni molto semplici, piccole chicche che possono aiutarci a livello della pelle, a livello del metabolismo, a livello dell'energia, e così io sono molto contenta che fai parte di questo programma. Gioco genocchio, gioco genocchio, state così, guardami, no, non è una spinta di piede, è spinta di genocchio, vedi? Vedi come vado? Veronica mi ha raccontato che ha un problema con le genocchia, con le articolazioni, un po' di problemi articolari, non potrebbe incontrare un integratore migliore che arterigen, arterigen è per rigenerare le articolazioni, abbiamo un effetto immediato di sollievo, un po' è un effetto prolungato di rigenerazione della funzionalità articolare, per sentirci più liberi, più leggeri, più flessibili, più mobili, e tutto questo è importante per la nostra amica Veronica, per ritrovare la voglia di muoversi. Come va con Arte di Gen? Molto, molto bene, non lo vorrei dire, però io non li prendo più le gocce antidepressive, quelle che li prendevo per il dolore, ho proprio smesso di prenderle, perché per adesso io con questo artigian sto bene, non mi fanno più male. Veronica, ti vedo di là una domanda, allora, con questo fatto della sorrelanza, delle donne, che cosa secondo te vi accomuna di questa esperienza? Intanto essere donne ci accomuna, già in partenza, però secondo me ognuna di noi ha una storia alle spalle, però abbiamo tutte quante più o meno lo stesso obiettivo, e non è quella secondo me di dimagrire, secondo me di piacerci, perché io quello voglio fare, di guardare allo specchio e dire, beh, questo sono io, quello è da vent'anni fa, e io quello sto cercando. Mi piacerebbe tornare, quella prima della malattia, prima della gravidanza, prima di tutti, voglio dire, eccola qua, è tornata. Certo, con le mie rughe, dicelo tutte, però voglio vedere io, gli occhi miei, voglio che mi vedano come ero e come sono adesso, voglio dire, sì, sono io.